Grazie per aver scelto di spendere questa serata insieme a me. Questo che vi propongo stasera è un viaggio, si chiama L'Esploratore. È una sorta di viaggio dell'anima che conduce la pitarra verso quei luoghi dove si è sviluppata in maniera particolare, visitando i brani di musica cosiddetta popolare, ma che in realtà hanno una forte connotazione colta. Però questo viaggio parte con un omaggio alla Sicilia, con un tributo alla nostra bella terra, reinterpretando un brano di Rosa Palistreri, un brano che cantava a grande rosa, che si chiama Mi Voto e Mi Voto. Grazie a tutti. 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 Grazie.